Una nuvola di punti è un insieme di coordinate generate da degli scanner 3D quindi sono una serie di punti con valori XYZ di densità variabile che una volta acquisiti dagli scanner nei formati diversi non molti, i formati sono in genere Leica, Faro e Topcon questi file quindi devono essere indicizzati questo è un esempio, vediamo da zero quindi iniziamo un nuovo disegno nuovo HD ISO 3 la versione 2013 di AutoCAD ha aggiunto alcune funzioni molto interessanti per prima cosa crea nuvola di punti noi ora creiamo una nuvola di punti a partire da un file in formato Faro FLS come si può vedere AutoCAD importa i file da indicizzare nei vari formati Faro, Leica e Topcon in genere sono i formati FLS e i vari formati Leica noi prendiamo questo che è stato generato da uno strumento Faro in formato FLS e apriamo questo il sistema mi presenta questa finestra dove posso definire dove salvare il mio file crea quindi la nuvola di punti in formato PCG che è il formato AutoCAD in porta RGB rispettando i colori se ne ha e altre funzioni che sono ad esempio in porta generali o attributi personalizzati in questo modo questa funzione crea l'indicizzazione e mi da in basso l'avviso di quando sarà pronta ora il file è stato generato cliccando lo importo oppure semplicemente allega e quindi allego il file in questo nuovo file di disegno e mi presenterà questa finestra casa 015 a questo io gli do un tipo di percorso completo non voglio che mi venga chiesta la specifica sullo schermo quindi il mio file sarà inserito alle coordinate assolute quindi origine assolute i dettagli mi permettono di farmi sapere quanti punti ha questo file ha circa un milione e mezzo di punti l'unità è il millimetro ha un RGB quindi è colore ha un'intensità no normale no ha questo tipo di dimensione della nuova di punti di 6 4 3 quindi è un di 6 per 4 per 3 in questo caso millimetri ok ecco questo è il mio file il mio disegno che è stato come si può vedere inserito all'origine questo disegno quindi questo file di punti è un blocco e si può vedere l'ingombro del blocco cliccando sul contorno la modalità della barra multifunzione viene presentata con mostra nascondi ritaglio rimuovi il ritaglio casella di delimitazione è questa posso anche definire se voglio i colori o da un unico colore con un unico colore come si può vedere tutti i punti saranno di un unico colore posso anche aumentare la densità dei punti quindi la mia matrice di punti il mio insieme di punti può essere modificato come anche posso creare un contorno casella di ritaglio e quindi io posso definire andare a ridefinire il box cioè l'insieme di punti cioè l'ingombro dei punti che ho importato ovviamente questo è un blocco quindi non posso modificarlo nei punti ma in AutoCAD è un blocco unico che non può essere modificato ho comunque generato questo file come file pcg dal quale poi posso salvare il file in formato dvg o posso poi importarlo in un altro sistema CAD che può riconoscere dai punti solidi o superfici queste quindi sono delle nuove funzioni inserite in AutoCAD 2013 2013